L'Otito torna in Molise per organizzare i congressi di Forza Italia, anche da Roma, ogni giorno impegnato per il bene del Molise. Temperature troppo elevate, abbigliamento invernale non venduto, i commercianti chiedono di posticipare i saldi. L'Escalation di furti a Campobasso dall'Associazione Cultura e Società, suggerimenti ai cittadini presi di mira. Il Cavallo Pentro e la Scuderia in Legginepro di Sernia, protagonisti della 125esima edizione di Fiera Cavalli di Verona. A Venafro, grande riscontro da parte della popolazione alle due giorni dell'ARC all'insegna dei cioccolatini della ricerca. Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Un'auto e un tir si sono scontrati questa mattina sulla statale 87 Sannitica, nei pressi dell'ex zuccherificio del Molise. Ad avere la peggio, il conducente dell'auto rimasto fortunatamente solo lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso. Nella serata di ieri, invece, un tir per causa in corso d'accertamento è finito fuoristrada sulla statale 85 a Venafro, finendo con la cabina nella cunetta e mettendosi di traverso sulla strada. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso conducente del mezzo pesante, ribasso illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno deviato il traffico su una strada laterale. Nel giro di un'ora la careggiata è stata liberata e il traffico è stato ripristinato. Lotito in Molise per organizzare i congressi di Forza Italia del prossimo 26 novembre. Incontrerà prima i rappresentanti forzisti in Consiglio regionale. Il senatore commenta anche il risultato negativo dell'elezione del presidente della provincia di Campobasso. Ce ne parla Francesco Adamo. Claudio Lotito è tornato nel Molise per preparare i congressi provinciali di Forza Italia del 26 novembre, che eleggeranno i coordinatori. Ma il senatore, eletto nel collegio uninominale regionale e coordinatori di Forza Italia nel Molise, carica acquisita direttamente da Berlusconi, ci tiene a rimarcare il concetto che per lui il Molise è un impegno quotidiano e non di circostanza. Oltre alla presenza fisica c'è una presenza quotidiana con quelli che sono i problemi del Molise, che io ho attenzione e cerco anche di risolvere quotidianamente attraverso che mi vengono sottoposti i rappresentanti non solo delle istituzioni ma anche i singoli cittadini. Sono adesso di persona, sono venuto perché, come voi ben sapete, ho convocato il partito a livello nazionale, ha dato delle date per far sì che venga espletato il congresso, 24, 25, 26, io ho scelto appunto il 26 per poter spredare i congressi provinciali che riguardano sia Campobasso che Sia Segna. L'Utito ha precedentemente incontrato i forzisti in Consiglio regionale. Ho incontrato la delegazione delle Forze Italia, quindi ho incontrato il Presidente Roberti, il Vice Presidente di Lucente, il Consigliere Di Baggio e il Consigliere Nicola Cavalieri. Inevitabile parlare della sconfitta del centro-destra alla provincia di Campobasso, nello specifico al candidato voluto dallo stesso Lutito. Ribadisce Lutito la scelta logica di Civetta, ma sottolinea il concetto che si tratta comunque di un Presidente di transizione, essendo uniti nel progetto di modifica della legge rettorale delle province. In segno di continuità e anche di considerazione per l'operato della precedente gestione, è stato scelto, anche perché è stato scelto appunto il candidato esistente, cioè che era in essere. Ma tra altre cose, aggiungo che poiché ritenere la possibilità di poter cambiare quello che sarà il sistema elettorale delle province, ma di farle chiaramente riassumere un sistema elettorale storico che era quello in elezione diretta, probabilmente, sicuramente rappresentava questo elemento di transizione. Quindi questo dato politico io non lo vedo come un dato, come dire, in qualche maniera eclatante dal punto di vista di scontro. All'interno della coalizione i comportamenti devono essere leali, corretti e rispettosi di quelli che sono gli accordi. Poi ogni amministratore è libero di votare con la propria coscienza e ha fatto delle scelte diverse. In Molise occorrono mediamente 315 giorni per effettuare una spirometria globale, 251 per sottoporsi a una mammografia bilaterale e 227 per un'ecografia bilaterale alla mammella. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'ASREM, come riporta l'ANSA, sulle liste d'attesa relative al quinto bimestre del 2023. Tempi abbastanza lunghi anche per le visite specialistiche, attese molto più brevi, invece per un'ecografia ostetrica, 9 giorni, e solo un giorno per altri test vascolari da sforzo. Il cavallo Pentro e la scuderia Il Ginepro, protagonisti della 125esima edizione di Fiera Cavalli di Verona. Tenere alto il nome del Molise nella prestigiosa rassegna, anche il merletto di Isernia. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Una storia di 2300 anni. Che cavalli sono? Sono cavalli di razza Pentro. Sono i cavalli Pentri, i cavalli dei Sardini, i cavalli antichi, i cavalli della regione Molise. Il lammantello di un nero perfetto, l'incedere elegante e fiero, lui è violino. Come appena annunciato dagli altoparlanti, è un destriero di razza Pentro. Insieme ad Argo, l'altro puro sangue che due settimane fa vagava libero tra le vallate di Montenero-Valcocchiara, campione italiano ed europeo, è l'orgoglio del Molise e dell'Italia alla Fiera dei Cavalli di Verona. A presentarli alla 125esima edizione della prestigiosa rassegna, i maestri della scuderia Il Ginepro di Isernia. Alfredo e Loris Matticoli, padre e figlio, hanno fatto della loro passione la loro missione. Portano avanti la buona equitazione, ma anche la tradizione allevatoriale dei cavalli della loro terra. Una tradizione che, partendo un po' più da lontano, dal IV secolo a.C., per la precisione, risale ai Sanniti. Per secoli le tribù stanziate sul territorio ora molise riuscirono a contrastare l'avanzamento delle legioni degli Equites, i cavalieri romani, anche grazie alla robustezza e alla tempra dei loro cavalli. Le performance di violino e argo, nella grande e gremita arena veneta, tra le più applaudite ed apprezzate, anche per un motivo estetico, ad adornare la testa dei destrieri raffinati frontalini realizzati all'uncinetto. Da chi? E c'è da chiederlo? Dalle abili mani delle merlettaie di Isernia. Puro sangue di razza antichissima e tradizioni ultracentenarie di artigianato d'eccellenza. Un connubio a dir poco indovinato, per mostrare il molise che esiste al resto d'Italia e al mondo. E dopo aver raccolto molteplici segnalazioni circa lo stato di degrado, in cui versa il cimitero di Isernia, in particolare la Cappella del Santissimo Sacramento, la consigliera comunale di opposizione Filomena Calenda, nella giornata di oggi, ha presentato un'interrogazione al sindaco Piero Castrataro e al presidente del Consiglio Nicola Paolino. La Calenda chiede di sapere quali interventi verranno adottati per il ripristino del decoro dei luoghi di culto. E sempre Filomena Calenda si fa portavoce di commercianti isernini che chiedono di posticipare i saldi. Le temperature infatti troppo elevate hanno fatto sì che la collezione autunnale rimanesse invenduta. Carla Marino. Caldo fuori stagione, una problematica che non preoccupa solo agricoltori e ambientalisti, ma che a Isernia sta impensierendo anche i commercianti. Le elevate temperature di settembre e ottobre infatti hanno frenato gli acquisti e i capi d'abbigliamento e le calzature della collezione autunno-inverno sono rimasti per lo più invenduti sugli scaffali. Proprio per questo motivo, come già avvenuto anche in altre realtà, gli esercenti isernini chiedono che venga posticipata la data di partenza dei tradizionali saldi invernali, generalmente fissata per l'inizio del mese di gennaio. Un modo per prolungare il periodo di vendita a prezzo pieno e consentire ai commercianti di recuperare in qualche modo gli incassi perduti. Una questione di cui è stata interessata la consigliera comunale del gruppo misto Filomena Calenda. Sono stata contattata dai commercianti ovviamente di Isernia, ma credo che la problematica riguardi un attimo tutto il Molise, tutta la regione, in quanto abbiamo visto che è stata una stagione anomala e quindi ovviamente pensare di andare con i saldi appena dopo il 7 gennaio credo che sia una cosa che non conviene ai commercianti. Una proposta che, sottolinea l'esponente di minoranza, ha già raccolto segnali d'apertura da parte degli organismi regionali ai quali la consigliera ha sottoposto il caso. E ovviamente si sta lavorando, io ho anche contattato l'assessore dilucente che mi ha dato massima attenzione e soprattutto sta verificando come ci si possa muovere. Quindi penso che a questo punto i saldi debbano essere postecipati perché insomma altrimenti davvero si cade ancora più in crisi della crisi attuale che è esistente. La giunta regionale del Molise ha ripartito i fondi assegnati dal decreto interministeriale del 10 agosto 2023. circa 620 mila euro per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità secondo il criterio della popolazione residente in ciascun ambito territoriale e sociale. L'assistente alla comunicazione e all'autonomia è una figura che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità. E a Venafro grande riscontro alla due giorni dell'AIRC all'insegna dei cioccolatini della ricerca. Un gesto di solidarietà per contribuire a finanziare la ricerca sul cancro. Domenico Marzocchella. Anche in Molise lo scorso weekend sono tornati i cioccolatini della ricerca. Un piccolo grande gesto di solidarietà per finanziare la ricerca sul cancro. Oltre 2000 i banchetti allestiti dai volontari dell'AIRC nelle piazze di tutta Italia. A Venafro scesi in campo. A proposito l'iniziativa ha toccato anche gli stadi. Carla e Simona. Sabato e domenica. Nonostante il tempo incerto, i due giovani volontari sono stati impegnati nella distribuzione di una raffinata e squisita confezione. Figurarsi il contenuto da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità accompagnata da una guida con tanto di fumetti della salute contenente le ultime novità sul fronte della prevenzione e della cura dei tumori. Stiamo raccogliendo i fondi per la ricerca contro il cancro tramite la distribuzione dei cioccolatini della ricerca a fronte di un piccolo contributo. Qui in piazza potete ricevere questa scatolina dove all'interno ci sono questi cioccolatini e così questo è tutto l'intero ricavato. Noi lo invieremo ad AIRC. C'è stato un ottimo riscontro. Le persone hanno risposto con entusiasmo e noi siamo molto contenti e questo appunto ci spronerà a fare sempre di più e a coinvolgere tutta la popolazione nelle prossime iniziative che ci saranno sia a gennaio che a maggio. Ma terminata la due giorni, la solidarietà in favore della nobilissima causa resta possibile, sempre uno dei modi più semplici e immediati attraverso il sito web dell'AIRC. E si sono tenuti questa mattina a Campobasso i funerali di Vincenzo Ferro, patron della Molisana, storico pastificio regionale. Gremita la chiesa di Sant'Antonio di Padova per l'addio commosso ad uno degli imprenditori più noti e attivi nel panorama molisano e internazionale. Escalation di furti in abitazioni, esercizi commerciali, oltre a decine di autovetture rubate, istituzioni forse dell'ordine ai cittadini di Campobasso quindi fanno fronte comune contro i ladri. Suggerimenti per ostacolare i furti d'auto. Ce ne parla Francesco Adamo. Aldo Di Giacomo interviene nel dibattito relativo all'escalation dei furti nella città di Campobasso. In ogni orario del giorno, furti in abitazioni e in esercizi commerciali, oltre che di autovetture. La prefettura ha organizzato un tavolo tecnico ma forse c'è bisogno anche di altri provvedimenti. Evidentemente noi sappiamo, siamo a conoscenza che attraverso la prefettura c'è un coordinamento di tutte le forze dell'ordine, soprattutto in quelle zone in cui l'incidenza dei furti è più notevole e c'è da dire però che i furti sono quotidiani o quantomeno i tentativi di furto sono quotidiani. Solo ieri sera, dalle 21 alle 22, ci sono state tre tentative di furto in una zona periferica di Campobasso. Allora noi come associazione ci fidiamo dalle forze dell'ordine per un motivo perché abbiamo sentito la prefettura che ha fatto un tavolo tecnico su questo che sta coordinando le forze dell'ordine e anche perché ci sono stati i primi segnali rassicuranti. Ci sono stati quattro fermi arresti di persone ritrovate con oggetti atti a scassinare. Di Giacomo sottolinea che la denuncia a piedi libero delle persone fermate non è certo un deterrente per un malvivente. Una volta presi sono stati denunciati a piedi libero e figuriamoci se un delinquente si può spaventare dalla denuncia a piedi libero. Di Giacomo preannuncia iniziative nel caso perdurassero questi episodi e viene a dare consigli pratici per fronteggiare il fenomeno a cominciare dal furto d'auto. Quando riguarda il furto d'auto noi abbiamo avuto furti d'auto dall'inizio all'alto di oltre 40 auto se non vado errate ma la maggior parte di quest'auto non si trova alle frazioni non hanno rotto il vetro. Allora significa che hanno della strumentazione che captano il codice quando uno schiaccia il pulsantino della chiave. In questo periodo sarebbe opportuno utilizzare inserire direttamente la chiave senza utilizzare il pulsantino. Per quanto riguarda il furto d'auto in appartamento quando suona l'allarme la tendenza è quella a staccarli immediatamente. Questo non va assolutamente fatto l'allarme lo lasciamo suonare fino a quando non siamo certi o che si tratta di un falso allarme o che non sono state avvisate le forze all'ordine e soprattutto la cosa da evitare assolutamente di mettersi a fare gli errori rincorrendo come è successo in molti casi il delinquente che è entrato dentro il caso. E torna la maratona Teleton Città di Isernia. Si tratta della più importante campagna di raccolta fondi del Molise organizzata dall'associazione Chimos Ollus con il patrocinio della fondazione Teleton del Comune di Isernia. L'edizione 2023 partita il 13 giugno scorso conta già 11 eventi filantropici per i mesi di novembre e dicembre e una serata di gala Antonio Forsma evento benefico organizzato in memoria di Antonio Di Rollo che si terrà come da tradizione il 13 dicembre a Isernia presso l'auditorium Milità d'Italia in occasione della quale saranno consegnate a fondazione Teleton tutte le somme raccolte. Ha solo 22 anni Lorenzo Iavaniglio in arte Lorne 3N ed è in Lizza per un posto tra i Big Al Festival di Sanremo. Il cantatore Isernino infatti è tra i finalisti di Sanremo Giovani che andrà in onda il 19 dicembre su Rai 1. Carla Marina. Dal Molise al palco dell'Ariston è il sogno che si fa sempre più concreto di Lorenzo Iavagnilio in arte Loren giovanissimo cantautore Isernino approdato alle selezioni finali di Sanremo Giovani 2023. Il 22enne è tra gli otto finalisti che si sfideranno il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 per guadagnarsi un posto tra i Big del Festival della Canzone più amato d'Italia. Solo qualche giorno fa l'annuncio ufficiale dei nominativi è l'emozione di scoprire di essere in gara con il suo ultimo brano che arriva dopo i singoli notte e come in un film. Tra il pop e il genere emo scrive canzoni come lui stesso sottolinea su Rocket per dire ciò che non riesce a fare a parole. Il nuovo brano sarà svelato al pubblico proprio sul palco del Teatro del Casino di Sanremo. Possiamo svelare il titolo che è Fiore d'inverno e che lo presenterò appunto il 19 dicembre su Rai 1 in prima serata insieme agli altri ragazzi. Giusto il tempo di godersi la meritata gratificazione per il traguardo raggiunto che Loren è tornato a concentrarsi sulla prossima sfida. La sto vivendo con moltissima soddisfazione e orgoglio in realtà. Abbiamo saputo la notizia pochi giorni fa mi sono preso un paio di giorni per realizzarla però adesso da domani si ricomincerà a lavorare perché ovviamente ci rendiamo conto che stiamo di fronte a una cosa importantissima. Io in realtà avevo come traguardo quello di rientrare nei 49. Siamo entrati nei 49 e ora siamo entrati anche negli 8 quindi il traguardo è stato raggiunto. Ovviamente ci troviamo in questa situazione quindi cerchiamo sempre di andare più in alto. Per il cantautore Isernino arrivare in finale ha un significato doppiamente importante perché non solo è partito da una piccola realtà ma anche da una piccola etichetta discografica ovvero Musica E che gli ha proposto il primo contratto. Mi piace ricordare il fatto che sono con un'etichetta indipendente non con una major quindi è importante il fatto che nonostante siamo piccoli siamo riusciti ad entrare in questa categoria. Per l'appuntamento di dicembre l'obiettivo è uno solo. Mi auguro semplicemente appunto di dare il meglio insomma non avere rimpianti, di godermela al meglio di portare in alto la città Isernia e anche la regione Molise. E ora vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Vox Populi la trasmissione a cura di Michele D'Alessio in onda alle ore 21 sul canale 110 del Digitale Terrestre e che potrete seguire anche in streaming sulla pagina Facebook di TV Molise sul sito www.tvmolise.it Ospiti del programma l'ex sindaco di Isernia Gabriele Melogli e l'attuale sindaco di Carpinone Pasquale Colitti Padre Antonio Losapio il nuovo padre guardiano e parroco della parrocchia Sacro Cuore di Isernia Losapio subentra fra Nazario Vasciarelli andato missionario in Africa a celebrare la messa di insediamento ecuaristica il vescovo Camillo Cibotti Servizio di Michele D'Alessio Campio della Guardia nella parrocchia del Sacro Cuore qui a Isernia Padre Antonio Losapio è il nuovo parroco pugliese pure lui come fra Nazario l'abbiamo incontrato? Beh diciamo il se possiamo chiamarlo il programma pastorale l'ho preso chiaramente dalla scrittura della lettera dell'Apostolo Pietro che dice fatevi i modelli del greggio e non spadroneggiate sulle persone a voi affidate questo potremmo dire il programma pastorale del mio ministero parrocchiale mettermi a servizio innanzitutto della gente della parrocchia fino a lasciarmi mangiare come dice la stessa scrittura dai fedeli per il bene del popolo di Dio e anche un po' seguendo quello che il vescovo diceva domenica sera nella mia emissione canonica dice la gente, i parrocchiani possono andare in paradiso se tu che sei parroco vai in paradiso quindi questo è il centro potremmo dire ecco di quello che penso di poter operare ovviamente tenendo conto anche dei miei limiti ma cercherò di fare del mio meglio per mettermi a servizio di questo popolo Lei viene dalla Puglia dalla Puglia veniva anche padre Nazario che per anni ha svolto il suo ministero qui alla guida di questa parrocchia Abbiamo cercato, padre Nazario prima e io adesso cercherò di portare il calore della Puglia non quello atmosferico perché è un po' diverso il clima ma almeno a livello umano il calore della gente pugliese Subito dopo il nostro TG vi ricordo che andrà in onda sportivamente la consueta rubrica sportiva a cura di Michele Visco con risultati e classifiche aggiornate dei campionati molisani partendo dalla Serie D E ora le previsioni del tempo Il meteo è offerto da Casa di cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Benvenuti al meteo di TVI Molise Vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta per la giornata di oggi martedì 14 novembre per la giornata odierna sulla nostra regione la mattinata si aprirà all'insegna della variabilità atmosferica con annuvolamenti più consistenti sui settori occidentali dal pomeriggio la nuvolosità si farà più compatta specie sui versanti posti ad ovest anche se non sono da segnalare precipitazioni venti dei quadranti sud occidentali mare quasi calmo temperature campo basso minima 9 massima 18 Isernia minima 10 massima 17 Termoli minima 15 massima 21 Venafro minima 11 massima 18 Vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani mercoledì 15 novembre per la giornata di domani la mattinata si aprirà all'insegna di nuvolosità compatta su buona parte del territorio anche se sarà maggiormente insistente sui settori occidentali dove non è da escludersi qualche debole precipitazione ad ogni modo la situazione evolgerà il miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite su tutto il territorio venti dei quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali mare poco mosso fino a mosso dalla sera temperature campo basso minima 10 massima 18 Isernia minima 13 massima 17 Termoli minima 16 massima 21 Venafro minima 14 massima 20 Ed è tutto grazie per l'attenzione Arrivederci